Ufala Fest 2022, andiamo a curiosare tutte le novità di questa bellissima manifestazione, seguitemi! Sono qui presso lo stand di Biagio Martinelli, proprio in compagnia del titolare Biagio. Ciao Biagio! Buonasera a voi! Biagio ti volevo chiedere, quest'anno è il primo anno che partecipi a questo evento? Sì, questo è il primo anno che abbiamo avuto il piacere di partecipare a questo evento che si svolge qui a lungomare Caracciolo in Campania e siamo molto fieri di essere presenti qui. Voi vi occupate di pasticceria? Pasticceria, sì, pasticceria. E vedo che c'è un bel dolce qua, cosa si tratta questo? Quest'anno per la prima volta che abbiamo partecipato a questo evento abbiamo preparato il maritozzo, maritozzo con questo burro di Fratelli Brazzale Superiore, un burro di ottima qualità. Parliamo di una brioche molto soffice con all'interno una panna montata aromatizzata alla vaniglia, un dolce diciamo così fantastico perché si presta a tutto, a quello che è la prima colazione, a quello che può essere un dolce da pomeridiano, a quello che può essere un dolce da tavola. E calza un po' su tutti i ranghi della giornata. Noi non dobbiamo andare a Roma per assaggiare il maritozzo ma veniamo da te, dove ti trovi, come la sede? Noi ci troviamo a D'Aversa, via Paolo Riverso, siamo con la nostra sede. Con la sede a D'Aversa ma qui tutta la settimana avete a via Caracciolo al Bufala Fest e troverete questa bella specialità qui. Eccolo qua, il maritozzo. Noi non dobbiamo andare a via Caracciolo al Bufala Fest e troverete questa bella.